Ricorso a cooperative, appalti privati, medici a gettone. E' costretta a giocoforza ad andare in questa direzione la sanità marchigiana per fronteggiare una carenza di personale che è diventata endemica al mondo spedaliero. Un ricorso ai privati che diventa il piano B per colmare le lacune dei concorsi pubblici che hanno dato pochi risultati. L'azienda Marche Nord ha infatti attualmente in corso una gara del valore di 13 milioni di euro per affidare a cooperative esterne la consistente molle di turni che rischiano di rimanere scoperti e ora anche l'Asur ha bandito un appalto di quasi 24 milioni per altrettanti mesi utili a sopperire alle carenze di personale nei pronto soccorso regionali. Meno medici, più accessi al pronto soccorso, più ricorso ai privati al cospetto di concorsi risultati infruttiferi. Basti dire che all'ultimo bandito dalla regione si sono presentati 13 candidati per 39 posti disponibili. Lavoratori che mancano e paradossalmente lavoratori a rischio. E' quello che lamentano i sindacati preoccupati dall'azzeramento dell'azienda ospedaliera Marche Nord in vista dell'imminente entrata in vigore della riforma sanitaria della giunta Acquaroli. Sindacati che denunciano come 70 infermieri e 30 operatori sanitari siano attualmente in scadenza di contratto. A tal proposito, i sindacati incontreranno l'assessore Salta Martini l'8 novembre per un confronto sulla riorganizzazione del sistema sanitario. Grazie. 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 Grazie.